Ti trovi nel nucleo del pensatore. La stampante è al piano di sopra, nella cabina di comando. Accesso solo per ingegneri di alto livello. Per avviare la stampa dovrai confermare la tua identità genetica. La stampa dovrai confermare la tua identità genetica. La stampa dovrai confermare la tua identità genetica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.